E' bellissimo suonare in questo cineteatro, sinceramente è la prima volta. Noi con il tonico abbiamo suonato, suonavamo fondamentalmente nelle feste di piazza che sono sempre dei modi molto belli, secondo me, di incontrare e conoscere persone nuove e di condividere musica. Poi le mie canzoni mi hanno portato un po' nei teatri, anche in ambienti un po' più grandini, spesso anche più piccoli, perché non è detto che è un posto più grande, più bello o viceversa. Comunque il teatro a me piace molto, anzi lo amo, e questa sera è una grandissima emozione. Tant'è vero che dicevo prima loro, ho suonato in molti teatri, anche grazie a Dio, sempre molto anche importanti, da supporto come chitarrista, ma suonare in casa è un'emozione particolare.